amici sportivi il più cordiale buon pomeriggio dallo stadio comunale borgo vittoria di san martino buonalbergo dove oggi in programma per la nona giornata del campionato di eccellenza gironea il match tra san martino speme e villa franca veronese ricordiamo in classifica villa franca veronese 15 punti san martino speme 9 tutto è pronto vi lascio alle immagini del match grazie a tutti 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 grazie a tutti